Si gioca la finale playoff del campionato di prima categoria, giorni B, ed è un derby tutto avlinese, quello tra il parco Aquilone di Francesco Remigetto e la Lupo Fidelis di Mister Carabino e Sfera. Una partita che non passa di certo inosservata. Il Valle Verde di Tripalda sarà una bolgia già nel match di campionato, vinto dalla Lupo Fidelis, lo stadio tripaldese fece registrare il tutto esaurito, ed è sicuro anche in questa importantissima occasione l'impianto sportivo sabatino farà la sua parte. Arrivano più riposati i ragazzi di Remigetto, anche se hanno da mordersi le mani, per non aver vinto il campionato, per sole due lunghezze, a trionfare è stata la Virtus Ottaviano, mentre la Lupo Fidelis, prima di raggiungere l'ultimo atto della prima fase, ha eliminato al Roca la temibile compagine partenopea della San Gennarese per 2-1, grazie ad un super Andrea Preziuso, che ha messo a segno una grande doppietta. La sfida, inoltre, è pronta a regalare diversi duelli interessanti. In attacco il parco può contare sulla fantasia di Pirera Iandoli, vera e propria icone del calcio delle tanti avvelenese, mentre, dall'altra parte, Sfera potrà contare sulla prorompenza di Preziuso e la qualità del giovane Sollazzo. E poi ancora Fabio Cese, Enrico Cirino, Nicolai Annacone, tutti i calciatori che hanno fatto le fortune di Santo Ammaso e Real Forino diverse stagioni fa. In casa Fidelis, da sottolineare, i portieri sono due ex Avellino, Giuseppe D'Arienzo e Mario Cice. Da segnalare, inoltre, che in caso di parità nei 90 minuti e nei due extra time dei supplementari, a passare il turno sarà il parco Aquilone, come compagine meglio classificata e non ci saranno, sempre a termine di parità, i tiri dal dischetto.